cari amici buongiorno e soprattutto buon weekend primo fine settimana di ottobre 2020 siamo venerdì 2 ottobre allora in questo video parliamo ai nostri cari diffusi della sd città di trani 2019 è stato ufficializzato e diramato il raggruppamento a ovvero quello di seconda categoria ovviamente in cui è inserita la nostra sd città di trani con città di sanicandra aldax sansevero gioventù calcio sansevero san marco united monte sant'angelo virtus castelluccio sauri alce ascoli satriano calcio canosium calcio top player minervino caponda sd città di trani ripoli sportiva trani quindi raggruppamento da dodici squadre seguite seguitemi aggiornamenti perché appena riesco a sapere o appena verranno ufficializzate le giornate sarà fatto un video anche su quello quindi buon proseguimento di giornata a tutti sembra forza città trani asd città di trani 2019 viva il calcio alla prossima ciao amico ciao